Sembra farsi sempre più concreta la possibilità della candidatura a sindaco dell'ex primo cittadino di Agropoli, Franco Alfieri, nella città dei Templi. L'attuale capo staffa della segreteria del presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, non ha ancora ufficializzato la sua posizione perché starebbe valutando la seria ed effettiva disponibilità da parte dei candidati delle liste a iniziare un percorso virtuoso di collaborazione di un territorio ampio come quello di Capaccio Pestum. Ancora sapete non c'è l'ufficializzazione quindi quello che so e che posso dirvi insomma che Franco si sta impegnando moltissimo per immaginare sì una sua candidatura però prima di ufficializzarla al contrario di come hanno fatto gli altri candidati che hanno come dire espresso la volontà di una candidatura senza avere comunque le liste dei candidati con sé lui sta verificando prima la serie effettiva disponibilità da parte di candidati e quindi vuol dire la comprensione se c'è veramente una volontà da parte della città di accettare una sfida così grande come quella che propone Franco, quella diciamo di stravolgere così come è stata fatta d'agropoli anche la città di Capaccio Pestum ed immaginare un percorso virtuoso di collaborazione su un territorio a quel punto ampio che parte da Capaccio e finisce nell'Alto Cilento insomma quindi andiamo a come dire creare un territorio ampissimo compatto che viaggerebbe certamente a una velocità maggiore perché è evidente quando si vuole andare a lontare bisogna andare in compagnia da soli si può camminare anche rapidamente ma la strada è breve. Quindi so che si sta impegnando per questo e ufficializzare la candidatura solo quando sarà certo veramente che ci siano un numero congulo di liste, si parla di otto liste che lo sostengono in modo da dare che a quel punto la candidatura sarà definitiva e quindi comincerà la campagna elettorale. Non posso naturalmente che fagliano in bocca al lupo ma so bene che se ha fatto questa scelta per come ha le idee chiare, per come affronta insomma le problemi amministrative e politiche so che sa il fatto suo e quindi sono sicuro di un successo che innescherà meccanismi virtuosi per tutto il nostro territorio.